E' in prognosi riservata un diciottenne di Carosino sarebbe stato aggredito per strada da un suo coetaneo. Colpito con violenza all'altezza della tempia con uno sfollaggente in legno è stato soccorso da un amico per poi essere trasportato in ospedale a Taranto. Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito in breve tempo di individuare e arrestare il presunto autore. Si tratta di un conoscente della vittima, un giovane di 20 anni, di Monteparano, comune limitrofo. Quest'ultimo si sarebbe recato a Carosino alla ricerca del rivale incontrato poi in via San Francesco d'Assisi dove è avvenuta l'aggressione. Alla base di tutto ci sarebbero vecchi dissapori. I carabinieri hanno trovato il manganello che sarebbe stato utilizzato all'interno dell'auto del giovane arrestato. Per lui si sono spalancate le porte del carcere Tarantino con la pesante accusa di tentato omicidio. La vettura del presunto aggressore e lo sfollaggente sono stati sequestrati. Il diciottenne ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata non sarebbe in pericolo di vita.